In questo periodo tanti staranno già pensando ai regali di Natale. Libertà insieme ad Australian dopo il successo delle polo di quest'estate, insieme a Bullasport a favore degli hospice di Borgonove di Piacenza, ha deciso così di proporre una felpa, quindi collezione autunno-inverno, una felpa benefica che a partire dal 24 novembre sarà disponibile sia da Bullasport che sul sito liberta.it e ovviamente è un regalo nobile, utile anche dal punto di vista della beneficenza. Questi sono eventi importantissimi per noi, specialmente in periodi di post-covid o pre-covid. Tutto questo ci ha rallentato molto negli eventi, specialmente nel 2020, eventi che ci portavano 140 mila euro l'anno. Tutte le iniziative per la raccolta fondi sono degne di lode, questa ha maggior ragione perché vede coinvolti entrambi gli hospice. Ricordo sempre che gli hospice raccolgono fondi per la loro sopravvivenza perché un 20% delle spese non sono coperte dai fondi regionali. Noi come Australian vogliamo cercare di consolidare o di iniziare un po' più profondamente la nostra partecipazione sulla piazza di Piacenza in quanto Australia è un'azienda milanese ma col cuore piacentino perché da 40 anni batte il cuore piacentino in Australia. È molto bello questo fatto di coinvolgere tutte le due realtà, sia di Borgonovo che di Piacenza. Il servizio viene fatto in modo esemplare da tutte e due le strutture e quindi secondo me è importante che ci sia questa possibilità di essere coinvolti nelle nostre iniziative. Libertà ha assunto questa nuova iniziativa di solidarietà proseguendo un percorso che ha già iniziato da qualche tempo. Libertà non vuole essere semplicemente comunicazione ma vuole essere una parte del territorio piacentino, un cuore, un pezzo dei piacentini e vuole continuare a proseguire su questa linea. Linea che peraltro nasce dalla Presidente stessa. Non dimentichiamoci, anzi direi che bisogna ricordare che la signora Ronconi ha donato a una fondazione che sarà gestita in futuro dai cittadini di Piacenza non solo le azioni delle società del gruppo Libertà ma anche i propri altri beni. Questo gesto è il gesto che anima un po' tutto questo nuovo corso di Libertà. È un gesto importante, un gesto che vuol dire, piacentini, libertà è vostra.